Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Andrace, oggi siamo su Dirt Rally, da un po' che me lo portavo Ora facciamo l'evento giornaliere insieme, carriera, eventi online Vediamo un po' ieri come sono andati, vediamo se sono in categoria top, sono in categoria top ragazzi 10.000 a me, e Rally Countryman, guardate lì, quasi in vetta Bene bene, allora, Pipe Peak, corso completo, non ve lo porto perchè non so il circuito Evento scommessa, questo dovrebbe essere interessante Allora, vediamo un po', paghiamo 100.000 Come funziona? Io pago 100.000 Se arrivo nella categoria base, guadagno 50.000 euro, però ne perdo 50 perchè ho pagato 100.000 per entrare Se arrivo nella media, guadagno solo 10.000 euro Se arrivo nella top, 25.000, quindi andiamo a comandare Monte Carlo, Cold de Turinie, Cold de Turinie è una bellissima prova, famosissima Vediamo con che macchina, perchè non si sa con che macchina è tutto, finchè non va a scoprirlo Siamo pronti? Oh, olè Con un avore C, mamma mia Fuoriremo sicuramente Siamo pronti? Prena a mano 5, 4, 3, 2, 1, via Attenzione sinistra 6, subito destra 1 dopo il video In sinistra 3, lunga, non tagliare Destra 6, lì dopo il destra 4 Sinistra 4 e destra 6 E destra 6, lunga 40 Sinistra 2, si restringe poi sinistra 6, lunga, continua su Trinale E crinale poi destra 5, lunga In sinistra 6, 230 crinale Attenzione, frena 60, tornante sinistro Destra 6, 60 Destra 6, 80, tornante destro 150 Attenzione sinistra 5, su Trinale Poi subito destra 3 e destra 3 In sinistra 2, lunga, si restringe, cinto sul lungo Trinale Sinistra 4, lunga, poi sinistra 6 E destra 4, media In attenzione destra 3, lunga su Trinale In sinistra 4, si apre, tornante sinistro In un spí Eh In un spíладare in destra 1 lunga e attenzione sinistra 4 il tornante destro lungo e il crinale sinistra 3 lunga poi destra 6 in sinistra 5 lunga crinale 40 sinistra 6 destra 1 lunga dopo il dio in sinistra 1 crinale destra 6 80 su crinale destra 4 lunga in destra 3 si restringe lunga in sinistra 1 media tiene la sinistra su crinale destra 4 lunga si restringe in sinistra 4 in destra 2 su crinale in sinistra 1 150 al traguardo mamma mia bellissima prova bellissima prova si ok vediamo un po' quanti in che posizione siamo e si è una bufala non posso essere il primo degli anni e 17esimo assoluto su quanti non si sa eh in pochi ancora eh 55 l'hanno fatto comunque ragazzi ora vero se riesco a trovare sul sito i risultati il giorno dopo perchè questo è un giorno durano un giorno non è caso prendetelo con le pinze questo risultato perchè non sono tutti non hanno partecipato e quindi nulla comunque abbiamo investito 100.000 dollari per partecipare vi ricordo ebbene ragazzi per questo video è tutto anche se è un pochino breve ma secondo me ne è valsa la pena noi ci vediamo a un prossimo video e ciao ciao ciao